Ehi là ragazzi, oggi vi inauguro la fotocamera nuova con degli spezzoni molto brevi perché solo all'inizio e alla fine vedrete quello che sta riprendendo la fotocamera nuova Allora ragazzi, oggi è un video molto molto speciale perché oltre ad essere molto divertente perché appunto è di Among Us, è reso ancora più divertente nella presenza della Sabri perché appunto ieri abbiamo fatto alcune partite insieme in live A questo proposito vi spammo il mio sito viola, non si capisce se si può dire o no Il sito che comincia con la T e finisce con Witch, come dice Maurizio Merluzzo Quindi niente ragazzi, adesso vi lascio le alcune partite che abbiamo fatto e mi raccomando seguitemi su quel sito, visto che sto facendo molto spesso delle live di sera e magari le farò anche a pomeriggio, vi lascio al video Ciao! Se volevi saperlo Erika mi sto grattando un po' una pezza Molto bene, molto bene Ecco sto mangiando un sacco di golia, io faccio sempre una challenge Entro con quante golia e vado a fare la diarrea Ma che cazzo! Sì, è la mia challenge a diritto, sono già 30 e non sono ancora andata in bagno Io sono sempre crewmate, ecco perché quelle poche volte che faccio l'impostura e faccio un po' schifo Ah, spero che non si senta che sto masticando ciucciando la caramella Io ignorerò le luci Vabbè, tanto mi fanno fuori ugualmente È morto a monte, fantastico Allora, Sabri, devi sapere che lui è quello che muore sempre per primo Ok, fammi vedere un po' Elio, mini, ravanello Usa i colori così non ti sbagli Ok, rosso, viola Ok, chi è che muore sempre? Il blu Il blu Ok, io posso già spezzare una lancia a mio favore che non ho visto niente e nessuno Sì, anch'io effettivamente Giuri, giuretto Qualcuno è andato da Electrical? No, io sono in Weapons Io sono a destra sotto Ely, dove l'hai trovato? Dovina No, in Electrical Non era in Electrical Era tipo nel corridoio di Storage per andare in Electrical Boh, io ho fatto una missione in caffetteria poi sono andato a fare gli asteroidi Quindi Io ho schifo perché non ho visto niente Non voglio che la gente pensi che io sia l'impostrice L'impostrice? L'impostrice Era buio e non si è visto nulla Quindi si schifo Non lo so Si schifo Io non l'ho visto nessuno nemmeno quando c'era la luce Ci rimutiamo? Sì, sì Eh, sì, sì Allora Ah, devo finire questo Bene Qualcuno le può andare ad accendere gentilmente? Grazie Basta chiedere, no? Perché c'è Minnie attaccato a me Vai via, ho paura Ok, addio Ancora Capisco se Minnie vuole uccidermi O se tipo Stiamo semplicemente facendo le stesse task Non lo so Non lo so Chi è che non è mutato? Minnie? Ma perché sei sempre addosso a me? Che paura È anche vero che mi avrebbe potuto uccidere tante volte Quindi Qui non c'è nessun morto? No, perché io sono qui? No, adesso non ci posso andare Mi uccidono Ma se io non morissi mai anche in altri posti Raga Tu non sei normale No, non voi Scusate Mi ha rubato una golia Ho trovato il corpo di Vale in O2 Mentre andavo su a destra Da caffetteria Per me menti Aspetta 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 Parlo in Allora Io ero in security Ho guardato nelle telecamere Nella 02 Ho visto Chommi uccidere Vale 24 Sì, certo Giuro su Chi è che l'ha detto? Io Piccione Eh, piccione L'hai un'altra c***ata È Chommi Proviamo a fidarci di Piccione? Sì Sì, sì Elisa è sempre d'accordo per votare Chommi No, ma io mi fido di Piccione Piccione era con me in etica e non mi ha ucciso Io mi fido solo di Mini Guarda, guarda che mapo d'altro Io ho già tutto mentre faccio Perché sai che non mi ha ucciso Chommi È Chommi Puglismo Ma poverino Eh, sono due impostori Mutatevi Sono due impostori comunque Cosa che devo fare? Dispiacere Allora, o mi segue palesemente O abbiamo davvero tutte Oh, allora Abbiamo esattamente tutte le stesse task Seguimi se non sei l'impostore Così faccio elettrica l'insicurezza Adesso mi uccide invece Mamma mia quanto mi sento fiera Quando lo faccio senza sbagliare Non mi uccidere, non mi uccidere, non mi uccidere Fammi fare questo Ok Mini Fammi raguardare il corpo Me ne mancano solo due Ma perché io sono sempre così veloce In confronto agli altri che a quanto pare dalla barra sono molto più indietro Elisa No, ma avete fatto fuori la sabri No, ti prego, Elisa di nuovo Elisa Musolino ha fatto un tasco davanti a me O te o te o te o te o te o Eli E' Viola Io ho visto fare ossigeno Quello in alto a destra Ecco, ecco Io ho dei dubbi su Ravanello Perché? No, no, no Io e Mini siamo stati insieme tutto il tempo Io non l'ho ucciso lui Ma non lo so perché all'inizio ci siamo trovati a fare le stesse task Che poi si vede che abbiamo cominciato a fidarci la vicenda In elettrica e mi hanno visto sia Ravanello che Mini Eh, in elettrica c'è la vent che va a security, raga No, no No, era con noi No, no, era con noi Ah, 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 Eli Porco due, ma... Che è che devo guardare? Eh, Erika Ehi 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 Oh madre di dio Che sia davvero Mini? No, dai Ne avrebbe potuto far fuori 400 volte Mi sono dimenticata la tasca là in alto Vabbè Adesso faccio questo e poi l'ultimo Ho paura Ok Ehi Cosa stiamo facendo tutti? Non ho capito Se davvero lui non lo stiamo facendo giocare Perché c'è Aiuto Adesso mi uccide per esasperazione Ho fatto una c***a Putate fuori musolino Ha preso l'avento sull'animale Cosa? Ho visto con la c***a dell'occhio In med Fuori Fuori Ho fatto un passo indietro Ho visto una macchia Però non vedevo bene Perché ho visto solamente Un bordino Sparire in una botola È musolino quindi Sì, sì Mini, mini Ma io ho detto Caffo Vediamo se In realtà poi era Mini E mi ha fregato per bene Per tutta la partita Io stavo scappando Mi stavo cercando di nascondere da Viola Così magari uccideva Erika Viola Ma non era invece Ehi, mi vuoi usare come esca È un pochino Ma Ok, allora era lui davvero Eh, ve l'avevo detto che erano Era noi E? Shommi 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 No, ma guarda Cioè, spero di essere L'impostrice Chi ti ha ucciso? Musolino? Sì Mi ha ucciso il marrone cacca Vedi adesso cosa ti faccio il marrone cacca Mi muto, ciao Ciao No No No, sono crashata Perché? No Ma come? Ma, ma Io sono in live Come faccio? Che ballero io l'impostrice Come restare? Ok Ok Una volta che sono io Va succedervi tutti Dobbiamo retartare Perché a Erika Gli cassa il gioco Scusa 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 La tabula La tabula Dai Puscole Arrabbiatevi E mi spiace Comunque Ho già mandato almeno 60 goli Arraga Se scappa è la diarrea Guarda in chat Erika Sono molto arrabbiata Io Io non ho fatto niente Ho fatto tutto il mio computer Troppo tardi No, ma No, guarda Non mi interessa Non do più 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 Che strano Che sono crewmate A meno Non sono crashata Possiamo giocare Stavolta ho fatto da sinistra Sabri Non sei mutata Sì sì Lo so Era un da dai Ti prego Perché non stavo guardando Se ero impostore o no Doppio click E non devo farlo Anche in lower engine C'è qualcuno? No Non c'è ancora nessuno Bene Electrical Va bene ragazzi Oggi Mi sento In questo momento Mi sento Coraggiosa Era nel corridoio Poco prima Dell'ingresso L'electrical Non ho visto assolutamente niente Io e Sabri Eravamo a navigation Ah no Guarda io non ho visto nessuno Cioè è inutile che Adesso Ti stava parando le chiappe Sabri Ti stavo difendo Allora va bene Ti ho visto anch'io Mi hai passato davanti Ah ok Allora va bene Ti ho visto Scusa Ti ho visto anch'io Monte Tu sei arrivato Tu con chi sei arrivato? Con c'era Il musolino dietro di me A distanza Siete arrivati da sopra O da sotto Reactor? Da sotto No va a caffetteria Ok Allora Allora non lo so Io ho skipato Perché non ho visto nessuno No Infatti pure io ho skipato Tanto ho mangiore E' il yogurt Tra gli elima è morta Dai Allora Magari se non mi stampo Contro un muro Vediamo se ho visto Cos'è che avevo visto? Fino a qua piano Poi veloce Non è vero Non funziona Avevo visto questo trucco su YouTube Vabbè Ehi Eh Va bene Questo funziona Non è vero Allora Ragazzi Non ho mai avuto problemi a fare questa cosa Oh grazie Madre Che agitazione Ok devo andare comunque di là No Devo andare in Mad Bay Perché ho quella cosa che bisogna fare in due tempi diversi Perché mi stai Seguendo Cattiva Entra nella ventre Entra nella ventre Quattro Già in quattro Ho trovato una sabri morta In vicino a shield Giù in basso a destra Tommy Quanto l'hai fecata con la tessera Tommy Tommy Quando tu ti hai iniziato a muoverti Non si è mossa la barra L'ho pagato Ci ho messo tre ore a farla Ma ce l'ho fatta Perché io Sospetto Che ci ha messo vent'anni Però poi ieri Che è morta Quindi Io voto monte Cioè Una è vale E ok Però lei ha appena cominciato a giocare Quindi È strano che abbia già fatto tutte ste kill Cioè È più brava di me che Lei gioca da un'ora Chi cavolo è l'altro Deve essere uno bravo comunque Sì ma non vinceremo mai Cioè siamo stra indietro con le task Non ho paura L'andrò in elettrica da fantasma Ho fatto in tempo a finirla Uno era ciò mi perfor... Ah beh sì Dov'era? Ho visto il cadavere in caffetteria Vabbè Schieppiamo Tanto l'uno è fuori sicuro E vediamo cosa succede Dopo quella in medley E poi ho finito Altra impostrice? Dove sei? Madonna Se vedesse quanti fantasmi La stanno seguendo Ha uno sciame Uno stormo di fantasmi proprio Cosa sta... Deve fare una chilo due Secondo me i fantasmi Non stanno facendo le task La Sabri lo sa che deve fare le task Anche la fantasma Non dividetevi Tu morirai Oppure schiaccerai pulsante Come va la vita ragazzi? Somma c'è Qualche fantasma Non ha praticamente fatto le task Vabbè dai basta Votiamo vale Puoi girare a caso Tante mi è ammazzato giusto in tempo Mannaggia che fatica Sabri la task del mixer Devi semplicemente tirar su la barra Quella di un colore diverso Qualcuno ha detto Scusate parlo Qualcuno ha detto Eh ma qualche fantasma Non le sto facendo Mi sono sentita chiamata in causa E monte monte E' sempre monte che parla Ok magari adesso mutiamoci Ok Sto Dove cosa perché Ho trovato il corpo di Eli In admin All'entrata di admin Davanti all'upload Non mi sembri molto convincente dalla voce però Prova a ripeterlo E secondo me la Sabri Eh certo Io poi Che non è che se non sai chi dire Devi dire il nome a caso La Sabri Perché è la new entry eh Cioè non funziona così questo gioco Diamo la colpa Perché sei stato troppo accusatorio Fin dall'inizio Mi piace accusarmi L'unica volta che non muore In effetti deve pur poter parlare Poverino ogni tanto Ma devi parlare un po' C'è non ha avuto nessuno quindi salto Questo era molto da dubbio E' molto da viola Mi muto Ok Ok devo farla veloce Ah è vero che io non avevo finito di fare le missioni che ci sono qui a destra Qualcuno sta guardando le telecamere Ma perché la gente sta sempre in telecamera Fatte le missioni dopo Guardate le telecamere Oddio Chi ha fatto sta Dai dai Dui che adesso è colpa mia Sono sicura che stai per dire il mio nome In che senso La cava estremamente alta Alla parte opposta Non c'entra E' assieme a Ravanello Nel senso che In admin Sono andato per fare la tessera E ho visto una cosina marrone Che usciva dal tavolo Ho visto questo report Infatti Infatti Esatto Di solito Si vede di più il tasto report E insomma C'era Musolino Che sembrava veramente una cacca Però si era lui Perfetto Era una cacca letteralmente Scusa Musolino In un certo senso Mi sono accorto perché l'ho pestata Comunque Mi devo fare una domanda Erika Sei tu? No Io ti ho incrociata E stavo andando verso navigation Lui l'ha trovata dall'altra parte Senti come ha detto navigation Perché se l'era preparata prima Ma è vero Sono in navigation davvero Certo che me l'ero preparata Allora Cosa mi dici piccione? Dimmi che cosa hai fatto in questa partita Beh praticamente Sono andato nella sigla A controllare le sigla Stai già ridendo comunque Sì Piccione Piccione No no Raga giuro su Dio Confermiamo io monte per piccione Era stato Però potresti avere le dita incrociate Quando hai detto questo giuro Che non sono io eh Magari anche le dita dei piedi No C'è un mio skip Che sei riuscito da No giuro Io non sono mai uscito L'impostore Non mi schifo No no te lo giuro Forse era un self report Vero Vosa il codello viola A volte ci mette più del solito A fare l'upload E quindi mi dicono Eh no ci hai messo troppo Lo stavi fakando In che senso No Dovrei aver finito Sì Bene Andiamo a fare la detective A caccia di cadaveri Non c'è niente Eh beh figurati Era davanti all'entrata di Electrical Allora monte ti scagiono Perché ti ho visto un sacco di volte Grazie 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 Non mi hai ucciso Quindi vi posso dire che non è monte Sì ho visto sia monte che mini che sabri Quindi loro no Quindi rimangono Ciò mi piccione vale Non lo so Io vorrei qualche prova in più Prima di votare qualcuno Ma piccione io lo vedo sempre a cams A che punto siete A che punto siete con le tasche E le ho finite Cioè non l'avresti potuto uccidere tu il viola Eh vedi infatti Brava Erika Grazie Piccione vai fuori No non è la piccione Mi monto ciao Vabbè che adesso ci vuole un attimino Prima che possano uccidere qualcuno 8 0 9 1 1 9 1 1 Un'emergenza all'ossigeno Cioè le faccio davvero tutte e due io 8 0 9 1 1 Pratica le ho fatte tutte e due io Ma io ho paura Andate via La mia caccia ai cadaveri Visto che ho finito le tasche Sta funzionando molto bene devo dire Ho trovato piccioni Electrical Allora non è Erika assolutamente Perché è stata con me adesso Quindi Erika non sei tu l'impostrice Ma tu non eri con me Ma in realtà era con me Non eri con me Hai fatto una quest insieme a me Hai fatto una quest insieme a me Quando? E nel fianco a me quando ho fatto questa quest di ora Sabri no Eh vale non era Erika No no non ero io No non ero io Sabri Sabri non ero io Ma era con me Erika No raga vi giuro che non sono io Ma no Però tu sei arrivata proprio da quella direzione No ma tu giuro che non sei Io ti ho detto che ho fatto una Ma guarda che tu ti stai sbagliando Sei stata con me Mentre io facevo adesso questa quest dei numeri Non l'avevo mai fatto tipo 4 4 8 3 2 1 ok Ah sì Quello era l'emergenza dell'ossigeno ok Te l'ho detto che eri con me Sì beh eravamo tutti insieme E tu puoi Non lo so Sabri Perché tu sei arrivata Eri l'unica che è arrivata Erika ma io sono tua burda Non lo farei mai Tommy è safe Eh è un crewmate Anche Notmonte Notmonte e Ravanello sono safe Sì ti è crashato Scusa Sabri ma me è puzzito Scusa Sabri Dannatamente schifosi Fate schifo Guarda che non è finita la partita Scusate Adoro tantissimo ragazzi Quindi Vediamo se la barra delle task si alza Cioè per un impostore è tipo impossibile Si sono accavalati perfettamente Per un impostore è impossibile A posto Mini sei tu Mini È Mini È Mini Mi nasi sono spenti le luce e è partito il tasto report Adoro No è Mini Io ho votato te Mini Ho votato Mini Che poi ero sovrapposto a Monte Poteva uccidere me come te Monte Cioè non lo sa neanche lui che ha ucciso No sapevo che uccideva Monte Cioè speravo che era sostanzo Perché è mancato È mancato Ero mutata Ero mutata Cavolo Vabbè comunque va bene o male Ragazzi ma non era la Sabri Che cavolo era l'altro No era Vale Era Vale Era Vale Ma scus- Ma Come volevo essere io che mi avete ucciso Quindi erano due vivi Beh che c'entra Ti abbiamo buttato fuori Potevi essere tu tranquillamente Anche se ti abbiamo buttato fuori Sì sì Mi è andata sfiga che ha Crasciato Ero convintissima Non lo sapevo Bene Allora queste erano Quelle delle partite Che abbiamo fatto Ieri sera in live E sono Mi sono divertita veramente Un sacco La Sabri è troppo forte Non c'è niente da fare Io spero davvero Che vi siano piaciute E noi ci vediamo presto Con il prossimo video Ciao Ciao listing Ciao 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 Grazie a tutti.